Io sono di Pescara, conosco i tifosi pescarezzi, in questo momento c'è un po' di delusione, in questo momento c'è un po' di mancanza di stima verso la propria squadra. Dall'allenatore ho capito che le vittorie sono più sentite perché hai il maggior peso di responsabilità addosso, per me doppia perché è l'allenatore della mia città e quindi è una vittoria bella, veramente bella. Io rimango, consentitemi in termini allibito dal fatto che venga sottolineato un gesto del genere, secondo me è la normalità, nello sport ci sono i vinti e i vincitori e io sono stato abituato così, la mia educazione è questa, prima fare i complimenti ad avversari e poi magari festeggiare, penso che sia una cosa normale.